Oggi ci ha detto che l'unica soluzione possibile è quella politica, ma non è stato lei venerdì scorso a dire, scatenando tra l'altro l'eccitamento collettivo in quest'Aula perché qua dentro qualcuno con la guerra in Libia ci si arricchirebbe, non è stato lei a dire l'Italia è pronta a combattere in un quadro di legalità internazionale in Libia. Parte il fatto che voi che parlate di legalità, insomma, aspettiamo ancora la legge anticorruzione, Ministro. Comunque lei, Ministro, colui che dovrebbe gestire la crisi internazionale, annuncia per mezzo stampa, scavalcando il Parlamento un possibile invio di migliaia di nostri ragazzi in una delle aree più a rischio del Nord Africa senza strategie e senza sapere bene chi dobbiamo combattere? La Libia, prima dell'intervento NATO del 2011, era un Paese sovrano, seppur con dei limiti evidenti era sovrano, così come l'Iraq e l'Afghanistan. Voi li avete distrutti. Lei, Ministro, stava in questo Parlamento quando il governo Berlusconi e l'opposizione PD si sono piegate agli ordini francesi e nordamericani accettando la rimozione violenta di Gheddafi. Voi stavate qua! Lei, come tutti coloro che si sedevano in quest'Aula nella passata legislatura, è responsabile del disastro libico. Ma meno male che oggi c'è il Movimento 5 Stelle qua in Aula. Meno male, perché per voi, sotto sotto, sotto sotto, l'unica soluzione sono le bombe. Le lobby degli armamenti pressano, ce ne rendiamo conto, ma esiste la dignità, esiste l'interesse collettivo, esiste la sicurezza degli italiani. Le vostre scelte, sotto sotto, sono sempre dettate dai soldi, stramaledetti soldi. C'è chi gode quando cade una bomba e se ne fotte dei morti, gode perché con le bombe ci si fanno i quattrini e con i quattrini si corrompe la classe politica italiana, la più corrotta del mondo. La guerra produce il terrorismo. Le vittime del terrorismo, dati del Global Terrorism Index, sono quintuplicate dagli attacchi dell'11 settembre ad oggi e questo nonostante 4.400 miliardi di dollari spese nelle guerre in Iraq, Afghanistan e in tutte le operazioni antiterrorismo del mondo. Dopo anni di guerre segrete, droni, bombe intelligenti, detenzioni arbitrarie, bambini morti e bambini morti non sono meno morti dei bambini italiani, oggi sono nati 36 nuovi gruppi terroristici nel mondo. E poi io mi domando, si è appena concluso il semestre europeo di presidenza italiana, qualcuno se ne è accorto? Cioè in questa aula qualcuno se ne è accorto, no? Perché vi ricordate come ce l'avevano pompato? Sarà una grande occasione per l'Italia. Cosa ha fatto Renzi? Nemmeno è riuscita a riportare a casa di Marò. Cosa ha fatto la Mogherini? Che fine ha fatto la Mogherini? Dove sta la Mogherini? I partiti che oggi parlano qui in aula sono gli stessi che hanno sostenuto nella passata legislatura l'intervento armato che ha trasformato la Libia in un paradiso di sciadisti e che ha permesso a multinazionali francesi, nordamericane e inglesi di arricchirsi a danno della nostra Eni. A Gentiloni, il ministro del Armiamoci e partite, voglio leggere una dichiarazione che chi la guerra la conosce non ci gioca soltanto per ossequiare gli interessi delle lobby. Andare in Libia a fare la guerra è fin troppo facile. Una volta che ci fossimo infilati in quel pantano però difficile sarebbe uscirne. Guardate che cosa accade in Afghanistan dopo quattordici anni. Bene, non l'ha detto un iperpacifista, ma Fabio Mini, già comandante della missione NATO in Kosovo. Gentiloni, l'attentato di Parigi e il recente attacco di Copenaghen sono stati compiuti da lupi solitari, rispettivamente francesi e danesi. Il pericolo è a casa nostra. Oggi la sola cosa da fare è investire nella sicurezza interna. I cittadini hanno paura, hanno ragione. Il Governo vuole tagliare migliaia di uomini delle forze dell'ordine. Carabinieri e poliziotti non sono una voce di spesa da mettere a bilancio, ma un investimento per la sicurezza degli italiani. I cittadini hanno paura, hanno ragione. Il ministro degli interni è Alfano, uno incapace persino di gestire l'ordine pubblico di una partita di calcio. E poi Alfano? Come potrebbe Alfano riconoscere un terrorista se non ha nemmeno riconosciuto Croce Napoli, capo mafia di Palma di Montechiaro, quando qualche anno fa lo baciò dolcemente sulla guancia? Scusi se divago, Presidente, ma il popolo italiano ha disperato bisogno di memoria. E poi smettetela di fare affari con i paesi che finanziano i terroristi. Questa è l'ipocrisia. Smettete di fare affari con loro. Dire no alla guerra in Libia non significa stare fermi. Noi vogliamo garantire la sicurezza degli italiani e per farlo non abbiamo bisogno di bombe, ma di aumentare le risorse per le forze di sicurezza e di intelligence qui in Italia, dove prendere i soldi. Ma vi rendete conto che, mentre in Libia, a pochi chilometri da noi c'è il caos, noi siamo ancora in guerra in Afghanistan, dove nel 2015 spenderemo un milione di euro al giorno. Al giorno, Ministro. Questi soldi non potremmo investirli nella sicurezza dei cittadini italiani? Una guerra in Libia sarebbe una catastrofe, sarebbe il nostro Vietnam. Se Gentiloni e Pinotti vogliono fare i Marines, si accomodino pure. Spenderemo i loro stipendi da casta per riparare qualche scuola, per bonificare qualche terreno nella terra dei fuochi o per pagare la benzina ai poliziotti. Perché la vera guerra, quelli che in molti mezzi di comunicazione e tutte le forze politiche vogliono farci dimenticare, ce l'abbiamo qui in casa e non in Libia. Grazie.